La sfida dell'immediato più importante è quella di ricostruire il rapporto tra il pubblico e la sala cinematografica. È normale che è un mercato in completa evoluzione, molto diverso da quello di cinque anni fa. L'entrata delle piattaforme ha cambiato veramente il panorama. Un lavoro che non sentiamo soltanto al nostro Ministero Sgruppe Economico, ma sentiamo di averlo fatto proprio insieme al mercato internazionale di risultato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.